Uno, tre! Per contenere il più possibile i festeggiamenti per l'ultima notte dell'anno. A Pesaro c'è già chi si è inventato l'alternativa per passare un capodanno diverso e senza brindisi in piazza all'insegna della sicurezza. Molti lo trascorreranno in casa assieme agli amici più intimi, altri in famiglia, poi c'è chi andrà al ristorante e chi invece deciderà cosa fare all'ultimo minuto. Probabilmente starò a casa con qualche amico e nessun programma particolare, anzi dobbiamo ancora organizzare tutto. Con la famiglia niente festa con gli amici? Sì, però piccoli, un piccolo gruppo insomma. Io credo che siano delle scelte da parte dei politici poi, vabbè, di ogni città, di ogni regione, non utili nel senso che gli assembramenti e possibilità di contagio ci sono in tantissime altre occasioni. Quindi non permettere ai ragazzi in situazioni già così delicate in questi anni di trovare una malvola di sfogo per stare insieme e festeggiare, penso che sia una scelta un po' estrema sinceramente. Io credo che mi vedrò con dei miei amici in qualche casa, pochi di noi per farci gli auguri, perché purtroppo non possiamo fare altro. Però secondo me è stata una scelta inutile ed estrema, sinceramente. Diciamo che è saltato un po' il piano, però per quanto riguarda questa cosa degli assembramenti in piazza, secondo me è una scelta di facciata, perché alla fine sì, non si fanno in piazza, ma se i ragazzi non si vedono in piazza vuol dire che si vedono dentro casa. E quindi alla fine la possibilità di contagio è molto più alta lì. Quindi secondo lei aver annullato le feste in piazza per Capodanno ha poco senso? Per me sì, perché alla fine si sposta al problema, non si elimina, ecco. Passerò il Capodanno con la mia ragazza e i miei più cari amici, staremo a casa appunto della ragazza di un nostro amico e faremo una cena, insomma qualche gioco a tavola, qualcosa di alcolico, qualcosa di molto semplice. Quanto riguarda il discorso di non poter fare determinate cose, come uscire dall'Italia, viaggiare o partecipare a eventi pubblici, un po' dispiace, soprattutto dopo due anni di pandemia e dopo tutte le restrizioni, le finte soluzioni che sono state proposte per arrivare a un punto di normalità e tranquillità? Beh, quello che farò dipende davvero tutto come andranno le cose. Forse faremo una cena in un ristorante, ma non si sa se si potrà fare, quindi siamo in balia di questo, ma siamo anche un po' impauriti, certo, perché una cena con tante persone ti fa un po' paura. Di chi abbiano annullato le feste in piazza, da una parte può essere comprensibile, dall'altra ci lasci senza alcuna via d'uscita, perché non pretendiamo di fare chissà cosa, ma forse andare in piazza e festeggiare un Capodanno tranquillo era l'unica cosa che ci rimaneva da fare, forse sì.